Ciao ragazzi, Syncom presenta Sint Window. Cos'è una Sint Window? Una finestra venusiana? Ma no! Ecco, ho trovato la risposta. È il modo più social per vendere di tutto. Come funziona Sint Window? Il cliente ci invia il materiale digitale del prodotto da vendere. Syncom ci lavora sopra e fornisce in breve un video da spallo. Potrai così lanciare le vendite su tutti i social. Senza pesanti procedure. Nessuna burocrazia. E potrai fermare la tua Sint Window in ogni momento. Con un semplice messaggio WhatsApp. Quanto costa? Praticamente non costa, poiché produce e basta. Il servizio è per aziende, professionisti, ma anche privati. Syncom. Conveniently smart and simple.